Un premio ai medici volontari che hanno sostenuto la battaglia al covid aderendo all'iniziativa portata avanti dal consigliere comunale provinciale di Salerno Dante Santoro della Casa del diritto alla salute telematica. Un gesto simbolico che va oltre quanto hanno fatto i camici bianchi che hanno dato la loro disponibilità durante il lockdown, sostenendo seppur a distanza le richieste di aiuto di tantissimi salernitani. Si è svolta questa mattina presso la sede del cambiamento in via Trento a Pastena la consegna degli attestati per rendere merito a questi eroi ha detto il consigliere Santoro che con passione, competenze, amor patrio si sono messi a disposizione della comunità offrendo un contributo di essenziale importanza. Durante il covid abbiamo voluto mettere in campo azioni concrete, si è dato una mano a migliaia di nostri concittadini, grazie ai medici volontari, tra le iniziative più importanti abbiamo creato il primo ospedale telematico d'Italia per capirci le persone non potevano uscire di casa ma avevano necessità di assistenza, prevenzione sanitaria e grazie a tanti medici che abbiamo organizzato già con il progetto Casa del diritto alla salute abbiamo convertito gli ambulatori sociali nati nelle parrocchie con i quali abbiamo fatto più di mille visite gratuite in tre anni in un ospedale innovativo con visite fatte in telemedicina con metodi innovativi e tecnologici abbiamo portato avanti un'attività che è diventata ad esempio in tutta Italia e oggi per questo premiamo i medici che si sono offerti abbiamo fatto più di 300 visite gratuite a persone che altrimenti a causa del covid avrebbero trascurato la propria salute e avrebbero visto anche difficoltà serie possiamo dirlo abbiamo salvato anche vite umane perché ci sono statistiche che ci dicono che persone durante il covid non hanno potuto avere accesso all'assistenza alla prevenzione sono andate incontro anche a destini fatali perché qui non si muore solo di covid ma tanta gente non fa più visite di prevenzione oncologica un dramma abbiamo visto che abbiamo avuto il crollo delle visite oncologiche il crollo della prevenzione e questo porta alla morte delle persone noi grazie a tanti eroi abbiamo salvato vite umane durante l'emergenza e il lockdown Dottoressa Paola Giustiniani anche lei durante il periodo del lockdown per la pandemia è stata in collegamento diretto telefonico con tante persone che l'hanno contattata che tipo di richieste le avanzavano? Erano delle richieste abbastanza urgenti persone che non potevano uscire di casa e avevano qualche problema qualche congiuntivite ricordiamo che uno dei primi segni della pandemia del covid è una congiuntivite monolaterale quindi l'occhio si fa rosso fa dolore e quindi non potendo andare in ospedale non potendo muoversi hanno fatto delle telefonate a noi medici che abbiamo risposto via telefono a volte anche con skype per vedere un pochino lo stato dell'occhio perché io sono un'oculista quindi mi occupo di questo